si torna a parlare di questa possibilità di cambio colore per la regione campania fanno buono signor, fanno buono, perché questo stanno dicendo noi non ci siamo di una mascherina, non ci siamo di una mascherina vabbè noi siamo vaccinati, io sono vaccinati chi si è vaccinato? chi si è vaccinato? tutti e due però parecchio, quando io giudo a fare l'UAC parecchio non si sono presentato, ma perché? un po' e mezzo l'ora, un po' di mascherina anche noi io signor secondo lei le persone si stanno un po' troppo rilassando? ma proprio, ci siamo quasi scordati ma fra poco c'è c'è donna tra poco cominciamo a essere arancione poi cominciamo a essere così e così non siamo a fatica più ci siamo a casa, è stato buono sì, questo è vero ma penso che proprio che si dovrebbe essere zona gialla perché non si è rispettato di niente e quindi penso che è proprio l'ora di farla lei la legge quasi come una punizione questa zona gialla sì, sì, scusate, tutte queste partite che abbiamo visto tutte queste persone per strada una appiccicata all'altra ditemi voi io penso che è proprio che si deve fare anzi gialla è pure poco secondo me passa il messaggio secondo lei che il covid non esiste quindi ci si può essere assembrati senza mascherina? siamo cani sciolti, siamo cani sciolti uno sopra l'altro ma si vede già per strada l'educazione che non c'è e quindi penso, speriamo che non lo facciano adesso a settembre perché sennò rovinano all'estate se no ci adattiamo vabbè, zona gialla io penso che ci sia il rischio di nuovo certo le persone non hanno rispettato penso le ordinanze anche molti ragazzi io trovo che i ragazzi si sono insomma trovati così insomma per essere liberi e quindi voglio dire il rischio io penso che ci sia ma molto, anche per le attività la restrizione per le attività la chiusura anticipata dei ristoranti insomma delle attività insomma che avevano cercato un minimo di ripresa adesso però penso che ci sia il rischio ulteriore si parla dei ricoveri dell'ospedale vedevano farli in base ai ricoveri se i ricoveri non se ne fanno che cambiano a fare il colore mi sembra una cosa assurda no? e loro vedevano farlo non in base ai contagiosi ma in base ai ricoveri dell'ospedale secondo lei al di là dei numeri i comportamenti delle persone sono corretti? no, per i giovani no per i giovani sono meno freghisti non è che pensano a provare la gente anziana che vanno a casa che possono contagiare insomma fanno una vita un po' di tutto particolare e il rischio cede è altissimo è altissimo perché c'è i ragazzi si sono dati alla libertà di pensiero di liberi tutti ma il problema c'è lo vediamo dal telegiornale dalle notizie i contagi i contagi fra giovani poi tra l'altro non sono più i fragili i fragili oramai sono stati messi al sicuro sono i giovani che si devono responsabilizzare io spero proprio di no francamente spero proprio di no almeno per l'estate che poi viene l'inverno e siamo un'altra volta un po' di prima un po' è così ma io voglio credere che dovrebbe andare bene dovrebbe poi si vedrà sicuramente fare dei passi indietro non sarebbe assolutamente non ci aiuterà per il lavoro per tutto per l'economia del Salernitano di tutto insomma non è una cosa semplice però speriamo che vada bene che vi posso dire qua stiamo stiamo facendo giorno per giorno vediamo poi i risultati alla televisione ci siamo un po' cullati nel senso che giorni fa erano meno i contagi e tutto sembrava che fosse finito tutto invece mi sa che qua si ritorna come prima speriamo di no perché un po' di libertà ci vuole stavamo bene così adesso se ci chiudono è un altro disastro dove andiamo? l'indice viene puntato ai giovani sarebbero loro coloro che rispettano meno le regole purtroppo dove devono andare questi giovani non c'è altro mi spiace ma la verità è che molti di loro non sono neanche vaccinati lo so lo so bisognerebbe insistere di vaccinare tutti obbligo mettere obbligo al vaccino perché qua sono i bambini le persone anziane quindi c'è l'obbligo di vaccinare i giovani che loro sono quelli che diffondano non c'è l'obbligo non c'è l'obbligo non c'è l'obbligo a Grazie a tutti.